Ciao a tutti! Oggi trasformiamo una vite occhiolo in un gancio Vediamo come tagliare la lunghezza della parte filettata perché nel nostro caso è troppo lunga Abbiamo fissato su una morsa da banco e tagliato come avete visto con una serietta A questo punto va smussata la parte dove è avvenuto il taglio per permettere al filetto di entrare nel legno dove dobbiamo applicarlo Con questa raspa andiamo a smussare la parte proprio tagliata Ora invece tagliamo la parte dell'occhiolo Ecco fatto Anche in questo caso il punto dove è stato tagliato deve essere smussato Anche perché altrimenti ci si può tagliare Anche in questo caso è un po' di più Anche in questo caso è un po' di più Anche in questo caso è un po' di più Anche in questo caso è un po' di più prima tagliamo la parte dell'anello e poi andiamo a smussare leggermente ecco qui vediamo meglio il punto dove si va a smussare vediamo che la raspa riesce a togliere bene tutte le parti spigolose e poi anche dove è stato tagliato nella parte filettata è importante perché serve anche da invito nel momento in cui si va ad inserire nella posizione dove lo vogliamo utilizzare ecco qui un asse di legno da una parte un dado poi il contro dado sotto ed ecco sistemato il nostro gancio abbiamo così creato un pannello con dei ganci per poter appendere qualsiasi cosa dei quadretti degli orologi spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile iscrivetevi al nostro canale per restare informati e visitate il nostro sito elettronicadidattica.com ciao a tutti a presto